Carissime lettrici del blog Lo Scaffale Incantato, oggi con questo video vogliamo parlarvi della bellissima serie di Travelling di Jane Harvey Berrick. La serie è composta da quattro libri, i primi due volumi, Il Viandante e La Viandante, vedono come protagonisti Cass e Aime. Il terzo volume, Il Nomade, ci racconta la storia di Tucker, amico e collega di Cass, e di Tera, sorrellastra di quest'ultimo. Ed infine il quarto volume, Lo Zingaro, che vede come protagonisti Zef, amico e collega di Cass e Tucker, e Sara. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Jane Harvey Berrick Good luck for Carnival and sorry for my English Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti